ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video sono le 11 e mezza di sera io sono qui in camera perché appunto Kevin sta dormendo quindi non voglio svegliarlo ho il fiatone perché ho fatto rescare perché ho portato su Marsa e niente allora tanti auguri a tutti per Halloween fatemi sapere di che cosa vi siete travestiti io da niente perché sono stata a casa ci ha offerto la pizza mia mamma e è venuta qui a casa mia e signore e niente visto che io devo truccare tra virgolette mia sorella guardate i miei anni ancora adesso le ho già lavate ma rimangono di questo colore ho truccato mia sorella quella di tra poco fa 11 anni e niente non abbiamo fatto niente di sofisticato adesso vi lascerò il video abbiamo fatto tutta una cosa un po' stupidina mettendo colori a caso tipo viola, blu ho fatto tipo un segno tipo da scheletro abbiamo mischiato un po' di cose diciamo che non era un trucco chissà come perché comunque non avevo i mezzi poi io non sono una truccatrice non avevo dei pennelli non avevo niente ho dovuto usare le dita poi ho usato tipo un pennellino tipo per gli ombretti quelli in polvere quando quelli erano liquidi gli sono spalmati per tutto l'occhio le ho pitturati i capelli aveva il colore ovunque quindi vabbè ragazzi niente abbiamo fatto questa cosa giusto solo per divertirci perché doveva andare a uscire con l'altra mia sorella doveva andare soltanto in una sala giochi perché non c'è nessun posto che festeggia in modo adeguato per mia sorella nel senso o sono festeggiate proprio per bimbi piccoli oppure per troppo grandi e quindi mia sorella si è offerta di portare in una sala giochi truccata ovviamente e niente quindi vi lascio questa clip di come l'ho truccata non insultatemi perché veramente è stata proprio una patacchiata messa in faccia e niente spero che il video vi piaccia e noi ci vediamo in un prossimo video buon halloween io non so cosa ne mette si basta che non mi fai nea cosa schicciosa che bello ma c'è paura andiamo prima le punte sono prima le punte perché poi non basta ma dove l'hai preso appunto io non te l'ho detto non penso che non è una patacchiata e tutto si ma non giù che puzza e tutto genitica fagli di tutto e vuoi e che sta facendo mi sto pitturando e allora l'orecchio l'orecchio blu anche l'orecchino non parli la pronta è un po' colorata si va bene ma mettilo tutto c'è un po' l'orecchio Grazie a tutti. Grazie a tutti. E niente, allora tanti auguri a tutti per Halloween, fatemi sapere di che cosa vi siete travestiti, io da niente, perché sono stata a casa. Ci ha offerto la pizza mia mamma e è venuta qui a casa mia e... signore. E niente, visto che io devo truccare, tra virgolette, mia sorella, guardate i miei mani, ancora adesso, le ho già lavate ma rimangono di questo colore. Ho truccato mia sorella, quella di tra poco fa 11 anni e niente, non abbiamo fatto niente di sofisticato, adesso vi lascerò il video. Abbiamo fatto giusto una cosa un po' stupidina, mettendo colori a caso, tipo viola, blu, ho fatto tipo un segno da scheletro, abbiamo mischiato un po' di cose. Diciamo che non era un trucco chissà come, perché comunque non avevo i mezzi, poi io non sono una truccatrice, non avevo dei pennelli, non avevo niente, ho dovuto usare le dita, poi ho usato tipo... Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, allora, niente, sono le 11, 11 e mezza di sera, io sono qui in camera perché appunto Kevin sta dormendo, quindi non voglio svegliarlo. Ho il fiatone perché ho fatto rescare, perché ho portato su massa e niente, allora, tanti auguri a tutti per Halloween, fatemi sapere di che cosa vi siete travestiti, io da niente, perché sono stata a casa, ci ha offerto la pizza mia mamma e è venuta qui a casa mia e, signore, e niente, visto che io devo truccare, tra virgolette, mia sorella, guardate i miei anni, ancora adesso, le ho già lavati ma rimangono di questo colore, ho truccato mia sorella, quella di tra poco fa 11 anni e niente, non abbiamo fatto niente di sofisticato, adesso vi lascerò il video, abbiamo fatto giusto una cosa un po' stupidina, mettendo colori a caso, tipo viola, blu, ho fatto tipo un segno tipo da scheletro, abbiamo mischiato un po' di cose. Diciamo che non era un trucco chissà come, perché comunque non avevo i mezzi, poi io non sono una truccatrice, non avevo dei pennelli, non avevo niente, ho dovuto usare le dita, poi ho usato tipo un pennellino per gli ombretti, quelli in polvere, quando quelli erano liquidi, gli sono spalmati per tutto l'occhio, le ho pitturati i capelli, aveva il colore ovunque. Quindi vabbè, ragazzi niente, abbiamo fatto questa cosa giusto solo per divertirci, perché dovevo andare a uscire con l'altra mia sorella, dovevano andare a uscire con l'altra mia sorella. Ma un video, quanto massimo ti può dire, così? Vabbè, ma lo velocizza. Sì, se fai sentito. Dici, mi fai sentito. Poi io direi di aggiungere il giro. Io ho già paura, cosa vuoi fare? Forse sì. Cosa vuoi fare? Facciamo un po' in fondo. Non farò tutto uguale. Non farò metà e metà. Basta. Non so cosa vandrà via. Hai visto? Vieni. Bella prospettiva. Cioè, sono già blu sulla fronte. Ah! Tu guardi, perché io mi ricordo che la mamma aveva un rossetto che faceva paura se aveva quasi sangue. Sì, lo so, non anch'io. Ma non so se l'ha preso l'abietto, se l'ha aperto. Però è aperto. Perché aveva entrati mio bambino? No! Ma è strugno! Te però ci hai messo meno di rosetta. No, due anni fa. Sì. Due anni fa, cioè... Ma l'ho lasciato per te il suo ultimo amico, è brutto. Dice di fare ancora qualcosa. Bene, da venici, no? Aspetta. Sì. 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 Però ma tu sei già rispettata.